Alessandro Recchiuti, oggi insieme a William Di Marco presentate un nuovo contenitore nel perimetro del centrodestra rosetano. Con quali ambizioni e comunque un appunto salta l'occhio che non ci sono i partiti del centrodestra, come mai? Noi siamo un movimento, allora azione politica è un movimento di carattere regionale, l'identità culturale rosetana è un movimento locale e abbiamo inviato un percorso condiviso, quindi non c'è nessuna polemica. Noi lanciamo una serie di idee, vogliamo confrontarci con tutti coloro che fanno parte di una determinata area sulle idee e sui progetti. Non abbiamo nessuna belletà di essere preclusivi o esclusivi nei confronti di altri. Abbiamo un percorso, ci siamo confrontati, abbiamo trovato una condivisione sulla volontà di rendere migliore la nostra città, vogliamo lanciare una serie di progetti sperando che vengano raccolti. E' chiaro che sarete in campo quindi alle prossime elezioni, con quale candidato sindaco tra lei e William Di Marto? Abbiamo risposto prima in conferenza stampa, non ne abbiamo minimamente parlato perché è veramente prematuro, parlare oggi non sappiamo nemmeno quando si voterà, quindi figurarsi se possiamo pensare al candidato sindaco. Quello che ci interessa ed è emerso da questa bella conferenza stampa, sono emersi i contenuti ed è quello che ci piace, sono emerse le idee e sono quelle su cui vogliamo confrontarci. Emergeranno i progetti che sono quelli che lanceremo alla nostra città, sperando di trovare condivisione anche da parte di altri. Qual è il perimetro appunto di condivisione? Con quali forze intendete dialogare e quali sono quelle invece con cui certamente non ci sono passaggi di condivisione? Guarda, il titolo della conferenza stampa lo dice chiaramente, quindi centro-destra Rosetano, non interessa il centro-destra Rosetano, ci interessa confrontarci con chi ha una visione di massima in linea con la nostra, senza preclusioni personali, senza belleità di escludere taluni, noi ci confrontiamo sulle idee perché ci interessa veramente la nostra città.